Ciao e bentornato, con questa lezione iniziamo una serie di approfondimenti sulle componenti del corpo macchina, quindi su quelle componenti che partecipano poi alla fase di scatto. Sarà una parte sicuramente un po' più noiosetta del resto, ma è una parte che deve essere fatta, quindi è meglio farlo all'inizio, toglierci questo dente qui e poi andare avanti ovviamente con la tecnica fotografica, ma tieni sempre presente che se non conosci al meglio le componenti che partecipano appunto alla fase dello scatto non potrai mai ottenere il massimo della tua fotocamera. Quindi la prima cosa che ti consiglio subito prima di iniziare questo corso è iniziare un pochettino a leggere, o comunque parallelamente a questo corso, i manuali di istruzioni della tua fotocamera, in modo tale da sapere perfettamente dove sono collocate le funzioni che andremo a analizzare in questo corso. Nella lezione di oggi parleremo di un piccolo elemento che spesso viene trascurato che è la scheda sd, quindi il posto dove salviamo le nostre fotografie una volta che la luce è stata impressa sul sensore. Ti dicevo sottovalutate perché? Perché generalmente spendiamo un sacco di soldi in fotocamera, in obiettivi e via dicendo e quando arriviamo a comprare la scheda sd e vediamo magari i prezzi, vabbè questa qui costa un po' caro, prendo questa qua più piccola che va un po' meno veloce, perché comunque tendiamo diciamo a risparmiare dove pensiamo che non sia necessario. Ma la scheda sd è un elemento molto importante perché comunque contiene le tue fotografie. Se la scheda sd non funziona non puoi salvare le fotografie o peggio ancora se hai salvato i tuoi scatti su quella scheda sd li perdi completamente, quindi magari perdi completamente gli interi scatti di una vacanza. E' una bella cosa. Quindi anche se è un elemento che ormai conosciamo perfettamente anche grazie ai cellulari, approfondiamolo un attimo velocemente in modo tale da scegliere la scheda adatta alle nostre esigenze. La scheda sd va inserita all'interno della fotocamera in una referitoria, generalmente lateralmente o nella parte bassa della fotocamera. Come puoi vedere in questo corpo macchina abbiamo due possibilità per inserire la scheda, quindi possiamo portare due schede sd alla volta. Una cosa utile per esempio per salvare o ovviamente per avere più spazio, ma una cosa anche utile magari per avere una scheda sd dedicata alle foto e una scheda sd dedicata ai video, visto che ormai le nostre fotocamere fanno molto spesso anche degli ottimi video. Visto che comunque sono degli strumenti abbastanza delicati ti consiglio di mantenere le schede sd sempre all'interno delle loro custodie una volta che non le utilizzi, in modo tale che non prendano polvere o colpi accidentali. La caratteristica sicuramente che salta all'occhio quando analizziamo una scheda sd è la grande variabilità di questi componenti e le mille sd che ci sono sopra che non si capisce assolutamente niente quando uno va a comprare una scheda, sopra la scheda ci saranno almeno 4 o 5 sd diverse e se uno non è pratico appunto di quello che ti può interessare per la fotografia può comprare una scheda sd completamente sbagliata o che magari non lo soddisfa pienamente. Vediamo quindi brevemente le varie differenze tra le schede sd esistenti. La prima differenza che ormai tutti conosciamo è sulle dimensioni quindi abbiamo le standard, le mini sd, le micro sd, a seconda della fotocamera ovviamente che utilizzi alcune utilizzano generalmente le standard e possono utilizzare anche le mini sd. Generalmente se ti dicono di utilizzare una standard usa quella perché anche con un adattatore può poi creare dei problemi quindi magari a metà sessione fotografica può interrompersi, una cosa che mi è successa più volte quindi usa la standard ti consiglio almeno quello in modo da essere sicuro che la tua fotocamera funzioni sempre. Un'altra caratteristica sempre molto sponsorizzata è la capacità della scheda sd quindi quanti giga contiene quella scheda e di conseguenza quante fotografie potrà contenere la nostra scheda. Generalmente si tende a comprare schede molto ampie perché comunque si dice risparmio prendo una scheda 64 gigabyte e mi dura sempre e posso accumularci tutte le fotografie che voglio. In parte è sicuramente vero ma in parte è anche vero che questi elementi non sono indistruttibili e se perdi le foto che sono presenti su una scheda sd da 64 giga piena sono centinaia centinaia di foto, se perdi le foto su una scheda da 4 giga sono molte meno foto e quindi ti girano un pochettino meno. Quindi generalmente per come ragiono io, io fotografo sempre con schede da 4 massimo 16 giga. Ovviamente ogni tanto le devo cambiare quando faccio dei turn lapse o faccio delle lunghe sessioni di scatto ma è un attimo e almeno sicuramente non rischio di perdere come ti dicevo prima centinaia di foto. Utilizzo schede di capienza maggiore come anche le 64 gigabyte quando volevo girare dei video in 4k che occupano un sacco di spazio. Non mi concentro più di tanto sulle sigle, l'importante è capire come vengono indicate e quale scheda dover comprare. Un'altra caratteristica delle schede sd fondamentale, soprattutto per la fotografia, è la velocità con la quale quella scheda acquisisce i dati. Ci sono varie diciture come vedi anche dall'immagine. Quello che interessa a noi è questo circoletto con il numero in mezzo. Quelle sono le classi di velocità minima e ci dicono semplicemente la velocità minima che è garantita da quella scheda. Possiamo avere diversi numeri in mezzo a quella C e può essere tipo classe 2, scrive quindi come minimo a 2 megabyte al secondo, classe 4, a 4 e via dicendo. Generalmente per la fotografia si usano schede di classe 10 che quindi garantiscono una velocità minima di 10 megabyte al secondo. Soprattutto se fotografi in formato RAW come vedremo poi, a differenza dei jpeg, è molto più pesante e quindi più difficile da lavorare per la fotocamera. E poi anche soprattutto se fai tipo fotografia naturalistica dove magari devi fare una serie di scatti in velocità o in grafica e ovviamente più la velocità della tua scheda è ampia e più veloce sarà la tua grafica perché comunque prima di fare la seconda foto il sensore della fotocamera deve aver elaborato la foto precedente. Ancora meglio se poi vuoi comprare una scheda UHS che sono le schede di ultima generazione e quindi garantiscono una velocità minima ancora maggiore. L'UHS 1 garantiscono 10 megabyte al secondo come le classi 10 ma le UHS 3 garantiscono una velocità di trasferimento minima che ha di almeno 30 megabyte al secondo quindi tre volte superiore a quella della classe 10. Infatti queste schede vengono spesso usate sia per la grafica ad alta risoluzione e sia per i video full hd o 4k che quindi occupano più spazio sicuramente di una fotografia singola. Per quanto riguarda i video visto che spesso chi fa fotografia fa anche video abbiamo delle classi dedicate che sono appunto le classi video che sono contraddistinte da una lettera V e garantiscono a seconda delle classi ovviamente una velocità minima che in alcuni casi come per vedere dalla fotografia V90 arriva anche a 90 megabyte al secondo quindi delle schede veramente performanti. Quindi ricapitolando queste sono diverse diciture che puoi trovare su una scheda SD quindi oltre le dimensioni abbiamo una differenza di capacità di memoria, di velocità, varie velocità che puoi trovare ma a te ti interessa la classe di velocità che sia almeno 10. Le schede SD le puoi compare su Amazon per poche decine di euro ti lascio in descrizione comunque alcune schede che secondo me sono ottime per un rapporto qualità prezzo e calcola che secondo me la marca migliore per quanto riguarda le schede SD è sicuramente la SanDisk. Sono schede abbastanza economiche e comunque sono soprattutto molto performanti e sicuramente affidabili. Sulle schede SD non c'è altro da dire ci vediamo nella prossima lezione